Da un giorno all'altro si è ritrovata senza i suoi tre alberi nella verde scarpata la signora Stefania Roscini, residente nel quartiere di Gimarra a fianco del torrente Arzilla. Infatti da alcune settimane sono partiti a gran ritmo i lavori per la realizzazione della ciclabile lungo l'Arzilla, che solo fino a poco tempo fa era un sentiero ciclopedonale del tutto naturale. Proprio in questo punto le grosse benne degli scavatori hanno scavato il terreno a lato delle case per la posa dei muri di contenimento che andranno a delimitare il percorso. Tra queste c'è proprio la casa della signora Stefania che si affaccia lungo il tratto interessato dai lavori. Due settimane fa ho firmato per fare i lavori, sono venuti qui, mi era stato promesso che avrebbero cercato di salvare i nuci in tutti i modi e io ho chiesto di potarli, di potarli molto a tre altezze ma molto bassi perché pensavo che togliendo il peso reggessero meglio ma c'era un agronomo che mi ha consigliato di non potarli. Non sono stati punteggiati da sotto e quindi una volta smossa la terra sotto la cacciotta erano diventati pericolosi. Ho dovuto dare il permesso perché ormai erano penzoloni, non sono riuscita a difenderli, niente in nessuna maniera ma era già tutto programmato, i noci non dovevano stare lì e io non dovevo stare lì perché questo pezzo di terra gli serviva fin dall'inizio. Io sono qui per denunciare per l'ultima volta buttando giù tre noci che per me erano molto importanti, c'erano gli scoiattoli sul noce, c'erano i ricci, c'erano le farfalle, c'erano i lombrichi, tutto questo è stato portato via a palettate. Non mi è stato mai chiesto niente e quel poco che mi è stato chiesto è stato quasi ordinato. Quando ho tentato di difendermi ho capito che le leggi per noi cittadini non ci sono, sono fatte apposta per le istituzioni, non puoi metterti contro le istituzioni. Io ce l'ho con tutti coloro che hanno avuto in mano questo progetto. Un piccolo spazio verde, ha aggiunto Stefania, ricco di vegetazione e rilassante nelle ore calde d'estate grazie all'ombra di quei tre noci che ora non ci sono più. Qui, come già annunciato da diversi residenti, associazioni ambientaliste e frequentatori, si sta stravolgendo tutto l'ambiente naturale di questo bellissimo luogo. Questo voglio denunciare perché ormai i miei noci non me li ridà più nessuno. Il mio ambiente ecologico che mi ero creata in questi 17 anni non me lo ridà più nessuno. E io ogni giorno ci sto più male, io non riesco più a venire giù all'orto. Inoltre la signora Roscini si è dovuta farsi tutelare da un avvocato. Io ho dovuto mettere l'avvocato. Prima si doveva entrare di due o tre metri nel mio orto ma nessuno mi aveva parlato di niente. L'ho saputo così per caso. Poi è stato cambiato il progetto, poi si salvavano i noci, forse si salvavano e forse no. Io ho firmato una settimana prima dello scavo, quindi è a progetto esecutivo. Penso che prima qualcuno poteva venire da me. Ma io ci metto dentro tutti, dal geologo alla paesaggistica. Ce l'ho col genio civile, ce l'ho col sindaco, ce l'ho col comune, ma ce l'ho proprio con tutte le istituzioni. Perché quando mio figlio l'altra mattina mi ha visto brontolare ancora e mi ha detto, mamma, ma tanto cosa ci vuoi fare? Le cose vanno così. A me non mi sta più bene che le cose debbano andare così. Perché comunque le istituzioni sono state create per proteggere il cittadino. Qui non è venuto mai nessuno, né a controllare la scarpata, che io gliel'avevo detto, se tirate giù i noci casca tutto. Sono 17 anni che curo quella scarpata. Mi si poteva chiedere a me invece di andare dal geologo che qui non è passato. Il mio avvocato se mi ha detto chiaramente se non vado nel penale, a me qui non mi spetta niente. Nel frattempo i lavori vanno avanti e come precisa il comune la prima parte delle opere terminerà entro l'inizio dell'estate con la ripresa del cantiere per il mese di settembre.